un tale entra in un negozio salve ho un problema di tarme nei cassetti cosa mi può dare ho provato di tutto vari sistemi naturali ma non hanno funzionato guardi prenda queste ultime palline di naftalina appena arrivate ultimo ritrovato queste contro le tarme vanno benissimo va bene se lo dice lei il tale le compra va via torna al negozio qualche giorno dopo guardi che le palline naftalina non funzionano ma non capisco tutti i miei clienti sono stati soddisfatti ma vedi sono difficili da usare e poi bisogna stare lì troppo tempo quale tempo certo ad aspettare che escono e poi sono difficili da usare perché bisogna prenderle in testa